Dottor Andrea Righetti, quali sono le caratteristiche delle due linee di prodotti che avete creato? Allora, le due linee che abbiamo creato sono due linee che hanno la caratteristica di soddisfare un po' tutti i tipi di pelle. La prima, che è Natural Revolution, che è una linea completamente green, fitoattiva, in cui è per tutti i tipi di pelli sensibili e allergiche. Mentre la seconda, che è la H24, ha la caratteristica di essere una crema in cosmoceutica, quindi accontentare anche le clienti più esigenti e le pazienti che hanno più problematiche anche a livello di pelle e invecchiamento. Ma avete creato anche una linea professionale per centri estetici? Sì, esatto. La linea professionale si chiama Rigenero O2, appunto perché ha all'interno principi attivi di origine marina come il plankton. E abbiamo creato anche sinergie di oli essenziali che hanno la caratteristica di essere idrosolubili in acqua e non in olio. Quindi è un olio che si riesce a solubilizzare in acqua.